E' ritrovato in diretta con l'informazione di Udinews TV, edizione che apriamo con la cronaca e con un infortunio sul lavoro verificatosi questa mattina a Villanova di San Daniele del Friuli, un infortunio alla ditta Topazzini. Secondo le prime ricostruzioni l'incidente è accaduto attorno alle 9.30. Un uomo è rimasto ferito per la caduta di un elemento sganciatosi dopo la rottura del cavo d'acciaio di un sollevatore. Il carico avrebbe poi travolto l'operaio, fortunatamente non in maniera grave. E' stato soccorso immediatamente dai colleghi e poi assistito dal personale medico del 118, giunto sul posto con l'ambulanza e l'elissoccorso. non sarebbe in gravi condizioni nonostante il trauma cranico e una frattura esposta di un arto superiore. Di andata veramente bene sul posto anche i carabinieri di San Daniele del Friuli e gli ispettori del lavoro. Ed ora torniamo sull'operazione portata avanti dai carabinieri della compagnia di Cividale che vi abbiamo raccontato e anticipato nella precedente edizione. L'operazione denominata Dracula contro una banda di rumeni che era dedita ai furti di carburante, ma non solo. Ben 15 i colpi compiuti in Friuli con un nascondiglio poi della refurtiva ritrovato in Carnia. L'intervista alla comandante della compagnia di Cividale, Rossella Pozzebon, della nostra Francesca Santoro, ci dà i dettagli dell'operazione. Operazione Dracula, arrestati 5 rumeni. In che modo avete operato? Le indagini sono avvenute sia con strumenti tecnici che con metodi più tradizionali e sono partite da un episodio verificatosi nell'ottobre dello scorso anno a Nimis che ha riguardato un furto a una colonnina di un distributore automatico di carburante. 15 colpi messi a segno in Friuli però non solo nella nostra regione? No, non solo nella nostra regione perché il modus operandi appunto di questa banda di criminali tutti rumeni era quello diciamo abbastanza comune di utilizzare come base in questo caso la residenza di uno di questi a Bologna e spostarsi in tutto il nord Italia. Quindi per noi abbiamo 15 episodi in regione e poi siamo riusciti ad attribuirne altri 5 avvenuti nel Basso Veneto, nelle province di Venezia e Treviso. Questa banda avete detto aveva delle peculiarità nel modo di agire rispetto ad altre bande criminali? Sì, peculiarità non così singolari ma comunque che hanno consentito di riconoscerli perché non era la prima volta neanche che commettevano questo tipo di reati. Loro partivano dalla base appunto di Bologna, si fermavano uno o al massimo due giorni, facevano questi ride che riguardavano un po' obiettivi non specifici quindi dal distributore di benzina alla ditta edile alla concessionaria di auto perché sono riusciti anche a rubare un'autovettura in un'occasione e poi ritornavano alla base appunto. Rubavano anche cibo? Rubavano anche cibo perché ovviamente dovendo stare fuori anche più giorni avevano bisogno di sostenersi in qualche modo. Avete trovato un loro nascondiglio ad Artegna nella Boscaglia? Sì, appunto per riuscire non avendo basi o aiuti in loco si organizzavano con quello che trovavano e siamo riusciti a individuare uno di questi nascondigli momentanei in un'area boschiva in cui c'erano anche delle tracce che ci hanno permesso poi di attribuire alcuni degli episodi a questi soggetti. Continuiamo con la cronaca con un incidente stradale accaduto stamattina tra Fanna e Maniago. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti per l'incidente che ha visto protagonisti un'auto, un mezzo pesante che trasportava derrate alimentari lungo la strada regionale 464 all'altezza del cementificio di Fanna. Per la violenza dell'impatto il passeggero dell'auto incastrato all'interno del veicolo è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri in collaborazione con il personale del 118 mediante l'uso delle pinze oleodinamiche da soccorso. Data la gravità dei traumi riportati l'uomo è stato affidato al personale medico giunto con l'elisoccorso e trasportato in ospedale a Udine sul posto anche i vigili urbani di Spilimbergo. Ed ora ci spostiamo a proposito di viabilità in autostrada perché Autovie Venete ha annunciato che sono state completate le tarature dei tutor e quindi entro una decina di giorni le postazioni lungo le autostrade della rete del gestore regionale ritorneranno attive. Un primo passo è stato compiuto nella notte tra martedì e mercoledì con la misurazione certificata delle distanze tra un portale e l'altro sono 11 in totale installati nelle diverse tratte dell'A4 tra Sanstino e Sandonà in direzione Venezia tra Cessalto e Sanstino tra Sanstino e Porto Gruaro e tra Villessere e di Puglia in direzione Trieste e poi sulla A28 tra Zanodecimo e Villotta e sulla A23 tra Udine Sud e il nodo A4-A23. Sempre per quanto riguarda la viabilità un'informazione di servizio dalle ore 22 di venerdì fino alle 6 di lunedì 30 settembre il passante di Mestre verrà chiuso in direzione Milano e il traffico in A4 deviato all'altezza di quarto d'altino sulla carreggiata ovest della A57 la tangenziale di Mestre attraverso l'uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia Est regolare invece il traffico in direzione Trieste. Attenzione alla segnaletica e moderare la velocità quindi in prossimità dei lavori un intervento in forma sempre Autovie Venete che si concentrerà in questo fine settimana ma ne seguiranno altri nei prossimi. Ed ora a Gorizia con la Guardia di Finanza che ha fatto il bilancio dell'attività di controllo al confine contro i cosiddetti spalloni ebbene in 5 anni ben 18 milioni di euro recuperati. Sotto vuoto nella biancheria intima o nelle scarpe nei braccioli o negli schienali dell'auto sono molti e fantesiosi i modi per nascondere il denaro e tentare di non incappare nei controlli valutari trasfrontalieri delle fiamme gialle sistemi che la compagnia della Guardia di Finanza di Gorizia conosce bene tanto che negli ultimi 5 anni ha contestato 625 violazioni all'obbligo di dichiarazione per chi entra o esce dal territorio nazionale e trasporta contante di importo pari o superiore 10 mila euro. L'ammontare del denaro irregolarmente trasportato in entrata e uscita dello Stato è stato quantificato in oltre 13 milioni. A questi se ne aggiungono altri 5 e 600 mila euro sotto soglia ma comunque irregolarmente trasportati. Il trend delle violazioni risulta in costante aumento dalle 50 del 2014 si è passati alle 156 del 2018 e sono già 73 le contestazioni nei primi 8 mesi del 2019. Questi risultati operativi sono frutto dell'analisi di rischio denominata Monitoro che ha coniugato lo studio del flusso veicolare con la pianificazione dei controlli sul territorio goriziano attraverso una distribuzione razionale delle pattuglie ai valichi di confine anche con l'aiuto del cane antivaluta, i cash dog. I trasgressori sono risultati per lo più acquirenti di veicoli e barche diretti nel centro-nord Italia, commercianti di prodotti tessili diretti in Toscana o frequentatori dei casino sloveni spesso a bordo di auto delle stesse case da gioco ma anche badanti e turisti. La pagina politica ora a Roma stamattina l'incontro tra i governatori e il ministro degli affari regionali Boccia con tanti punti all'ordine del giorno su tutti il tema dell'autonomia. In precedenza si erano incontrati i governatori del centro-destra di Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte delle province autonome di Trento e del Veneto per affrontare diversi temi tra cui anche il referendum ma non solo anche la questione della carenza dei medici in particolare negli ospedali un tema che intreccia anche la questione del numero chiuso nell'accesso alle facoltà di medicina con i posti limitati nelle scuole di specializzazione. Il tavolo politico dei governatori è stato fatto sapere assumerà un carattere permanente e cadenzato in relazione agli incontri istituzionali della conferenza delle regioni. Tra i protagonisti l'abbiamo visto anche il governatore del Veneto, Luca Zai allora andiamo ad ascoltare le sue dichiarazioni a margine dell'incontro. È stata positiva, abbiamo parlato di molti argomenti e direi che un argomento centrale è stato sicuramente quello della sanità della mancanza di 56.000 medici in Italia e della necessità assoluta di provvedere già con delle prime misure straordinarie per trovare questi medici. La nostra necessità è quella di dare servizi ai cittadini. 56.000 medici mancano in Italia dei quali 1.300 al Veneto. Spero si sblocchi l'autonomia perché noi stiamo vivendo ormai per l'autonomia. Penso che lì stiamo lavorando e andiamo avanti e speriamo che ci siano notizie positive dal governo e che non siano come quelle che abbiamo letto 24 ore fa di sentirci dire che bisognerà attendere fino al 2023 perché i Veneti non attendono e neanche i Lombardi. Dal governo Gentiloni non abbiamo avuto una proposta di intesa. Dal governo Conte 1 non abbiamo avuto una proposta di intesa. Dal governo Conte 2 non c'è ancora una proposta di intesa. quindi io mi rifiuto di parlare delle singole competenze quando il governo ancora non ha messo nero su bianco la sua idea di autonomia. No, guardi la vogliamo nero su bianco è come essere fuori da un ristorante e sentirsi dire a che piatto rinunci. Fammi vedere il menù prima, no? Tra i temi all'ordine del giorno nell'agenda politica nazionale e internazionale anche quelli sul clima e domani in Friuli così come in tutta Italia sono annunciate diverse manifestazioni nell'ambito del terzo sciopero globale del clima dei Friday for Future a Udine si incomincerà alle 8.30 con il raduno in piazzale Cavedalis davanti all'istituto Zanon dove dalle 9 poi partirà il corteo che si snoderà lungo le vie della città per arrivare alle 11 in piazza Matteotti e da lì il dibattito e gli interventi dei partecipanti manifestazioni anche a Tolmezzo al centro studi in piazza 20 Settembre a Porrenone in piazza 20 Settembre con una biciclettata e la piantumazione di 500 alberi a Sacile oggi alle 16.30 a Ronchi dei Legionari i ragazzi delle scuole si ritroveranno domani alle 9 alle medie da Vinci a Trieste il corteo invece partirà da piazza Goldoni per raggiungere piazza della Borsa l'ultimo appello invece nella settimana della raccolta firme promossa da Coldiretti contro lo stop per lo stop contro il cibo anonimo interesserà oltre 50 mercati rionali di tutta la regione e ai nostri microfoni una delle rappresentanti dell'associazione di categoria ha lanciato proprio questo appello affinché anche i frulani continuino a firmare la petizione una raccolta firme di Coldiretti contro il cibo falso di cosa si tratta? si tratta di una ICE iniziativa dei cittadini europei quindi una raccolta firme a livello europeo per chiedere alla comunità europea di legiferare e mettere l'obbligo di scrivere in etichetta l'origine degli alimenti e delle materie prime di tutti i cibi che noi acquistiamo e mangiamo quali sono i prodotti che più frequentemente sono privi di queste indicazioni? ci sono un sacco di prodotti che non hanno ancora questo obbligo e quindi la falsificazione la sofisticazione l'adulterazione è facile il falso made in Italy è un business molto elevato e noi cerchiamo di appunto combatterlo attraverso la dichiarazione obbligatoria di tutte le materie prime in tutti gli alimenti anche cibi di origine locale? assolutamente ogni alimento ha la sua carta di identità ed è corretto metterlo in etichetta così il consumatore quando prende in mano un prodotto e fa la spesa sa perfettamente cosa si porta a casa una tutela per la salute ma anche un modo per difendere i prodotti di origine appunto locale artigianale? assolutamente perché purtroppo molti prodotti vengono acquistati per italiani quando in realtà non lo sono quindi è giusto tutelare il prodotto made in italy dal resto ed è giusto che il consumatore sappia appunto cosa acquista a che punto siete con la raccolta firme? siamo a buon punto questo è il rush finale il 2 ottobre termina questa raccolta firme e noi abbiamo a livello italiano raccolto 936.000 firme almeno agli ultimi minuti che ho controllato come frulli Venezia Giulia ne abbiamo raccolte più di 16.000 però vogliamo veramente spingere in questi ultimi giorni su questa raccolta per arrivare a un milione e più di firme per l'Italia prossimi appuntamenti in zona per firmare? siamo presenti in tutti i mercati rionali del frulli Venezia Giulia circa 55 banchetti col diretti nei vari giorni in cui si svolgono i mercati quindi già ora abbiamo i colleghi sparsi sulle varie piazze della regione qui su Udine siamo presenti sicuramente domani sabato e martedì mattina con la raccolta firme e sempre potete venire anche al mercato coperto in piazzale Chiavris e ovviamente se andate online sul profilo Facebook di Campagna Amica abbiamo messo la mappa di tutti i luoghi dove potete raccogliere le firme dai mercati da Campagna Amica al Parco del Cormor perché stamattina in Comune sono prossime ad essere annunciate alcune novità per uno dei simboli del capoluogo frulano e in Comuna Palazzo Dallonco per noi c'è Francesca Santoro in compagnia di un ospite ben ritrovata Sì buongiorno David sono con l'architetto Roberto Pirzio Biroli progettista del progetto di ampliamento del Parco del Cormor un progetto atteso da tanti anni di cui si parla appunto si parlerà in una conferenza stampa che inizierà a breve di cosa si tratta in cosa consiste questo progetto è una ricostruzione agro-idro-geo-morfologica cioè un territorio agrario che viene valorizzato tutti i percorsi diciamo antichi come la strada consorziale di San Daniele la strada comunale di San Daniele che oggi è una carareccia diventerà diciamo un percorso ciclopedonale che prosegue quello esistente nel parco in esercizio l'ampliamento è di circa 100 ettari abbiamo realizzato super frequentato vada adesso nel parco del comore pien di gente sono passato pochi minuti fa teriale o domenica è pien di gente abbiamo realizzato 40 ettari di ricostruzione al posto di discariche immense che c'erano negli anni 90 adesso abbiamo un territorio molto più di valore dal punto di vista paesagistico di quello che abbiamo risanato abbiamo dei prati stabili che sono antichi di oltre mille anni la strada consorziale di San Daniele è diciamo così è è un percorso antichissimo fino a Viale Venezia e si congiunge con il parco Cormor di Basaldella quindi è veramente una ricostruzione i cittadini di Cormor Basso sono felicissimi il comitato di Cormor Basso perché finalmente non sono isolati è il parco che li collega al resto della città questa parte di parco sarà collegata anche al parco Moretti e permetterà una cosa fondamentale con l'ampliamento del parco finalmente i tedeschi che scendono giù sul percorso Alpe Adria possono continuare perché arrivando nel parco in gestazione il parco diciamo del Cormor quello frequentato quando arrivano dicono adesso non sanno dove andare sui dep li devono tornare in città con l'ampliamento di 100 ettari del parco del Cormor continueranno dritti andranno verso Basaldella e si collegheranno poi a sud sul percorso Alpe Adria attualmente bloccato dalla mancanza di questa parte il sindaco Fontanini e l'assessore ai lavori pubblici sono molto impegnati per far partire questo progetto che faremo per fasi quali saranno appunto i tempi? i tempi dovrebbe con oggi partire la progettazione no? andiamo avanti per fasi vediamo i costi di ogni lotto diciamo di lavori e andiamo a battere cassa penso penso che andranno a battere cassa anche alla regione Scocimaro è molto interessato dal punto di vista dei finanziamenti ci sono anche i privati interessati e diciamo il mondo delle riviste è interessato questo è appena uscito su Architettura della Terra diretto da Paolo Portoghesi guardate un po' che roba le pagine che hanno pubblicato no? diciamo precedentemente è stato voi sapete che è stato segnalato come come migliore opera eccola là migliore opera quindi un progetto atteso a Udine e non solo negli ultimi cento anni sapete questa cosa ecco per cui oggi dobbiamo ricostruire il paesaggio agrario idraulico dei sistemi idraulici e poi noi potremo in corso di lavori potremo cominciare a collegare diciamo tutto il problema dell'idraulica rurale con i canali di Udine e grazie all'animazione di questa ricostruzione agro idro geomorfologica potremo cominciare a pensare perché no di sistemare pulire i canali che attraverso Udine non dimentichiamo che Udine è una città nell'acqua no? dalle cascate dell'edra che casca nel Cormor di cui adesso il Comune Martignacco vuole attivare le bellezze di questa opera idraulica a questo parco noi siamo circondati all'acqua e la consideriamo un po' una fogna mentre l'assessore lavori pubblici ha intenzione di riattivare l'intero sistema idraulico che ci collega tra l'altro con il parco del Torre dal quale siamo totalmente isolati invece siamo in possesso di una viabilità rurale quindi un agro un agro con l'agricoltura e di un sistema di canali di scoline eccetera che potrebbero facilmente collegarci con il parco del Torre direi che l'ampliamento del parco del Comune è il segnale che i due parchi potranno essere collegati questo è un parco che fa concorrenza a Villa Borghese nel senso come dimensione rispetto a una piccola città e uno lo sottolineo questo nei confronti di Greta sì che io sono un po' egoista rispetto a Greta io voglio vedere le opere di ricostruzione del paesaggio mica voglio lasciarlo alla generazione successiva no no io voglio vederlo e per quello mi sto impegnando da anni no e quindi rispetto a Greta sono un po' egoista grazie grazie l'architetto per questa dettagliata spiegazione di questo progetto a te David grazie grazie a Francesca l'architetto Pirzio Biroli come al solito un po' prolisso ma molto effervescente ci spostiamo idealmente di poco dal parco del Cormor alla Dacia Arena dove lì per noi c'è Francesco Pezzella e con lui riapriamo la pagina sportiva ben trovato Francesco perfezionando il collegamento audio con il nostro Francesco Pezzella dalla sala stampa della Dacia Arena con lui andremo a fare il punto della situazione sui bianconeri che stanno lavorando in vista della prossima sfida di campionato la sesta giornata contro il Bologna bianconeri reduci dal pareggio nel turno infrasettimanale contro l'Ellas Verona chiamati subito a fare punti nella prossima sfida di campionato che si giocherà alle ore 15 alla Dacia Arena contro la squadra di Mister Mikhailovich nell'attesa di ritornare da Francesco Pezzella andiamo a parlare anche di basket nella post partita del Memorial Paietta che si è disputato ieri a Cividale che ha visto ancora una volta l'Apu trionfare abbiamo ascoltato a fine gara Davide Mikhailovich il General Manager che guarda anche già alla Final Four di Supercoppa venerdì e sabato che vedrà protagonista proprio l'Apu Davide Mikhailovich memoria la Paietta in archivio con una vittoria che non guasta mai e la testa adesso è già rivolta verso venerdì tutto bene è stata una bella serata vi ho onorato come si deve la famiglia del nostro presidente papà Francesco interessato una serata il nostro precampionato nemichevole perché ormai diciamo che il weekend di Milano non è più da considerare nemichevole non è più da considerare solamente un precampionato è un trofeo doveva giocarci e oggi Croce ha votato tutti ha ottenuto buona risposta da tutti ha magari dato un pochino più spazio che ha più bisogno di giocare ha intonato che non ha proprio messo in campo e abbiamo vinto che poi non fa mai schifo anche erano meno cinque è molto alla fine la squadra ha dimostrato anche in partite come stasera che non vuole perdere questo secondo bel segnale potrebbe la più occasione un po' di stanchezza venerdì considerando anche che ha giocato a Tortona questa sera contro Manto ma io non credo è come un allenamento scientificamente gestiti con il cronometro un bel ambiente bel clima sta bene in palazzetto no per me non non lo sentiremo credo che i ragazzi siano carichi ma dobbiamo affrontare queste partite come abbiamo affrontato a tutte le partite di Supercoppa senza darci troppo peso cercando di divertirci di giocare spensierati di sviluppare la nostra bella canestra che è una bella bella canestra di collettivo e allora ora siamo pronti a tornare dal nostro Francesco Pezzella alla Dacia Arena e sì noi con tutti i discorsi sull'ecologia come quelli dell'architetto Alcormor tendiamo sempre ad utilizzare le batterie fino al limite massimo possibile ed è crollato ed è crollato il microfono eccoci qui di nuovo Davide dunque stavo dicendo tra poche ore sapremo se Igor Tudor potrà avere a disposizione anche Rodrigo De Paul per la partita contro il Bologna e attesa la decisione della disciplinare che sta discutendo il ricorso presentato dall'Udinese verso la squalifica di tre giornate dopo l'espulsione che De Paul aveva subito a Milano si punta alla riduzione dunque ad averlo in campo nella partita contro il Bologna in tal senso si lavora oggi pomeriggio alle 15 per una seduta molto importante che cade a metà settimana la seduta che precede poi quella esclusivamente tattica del venerdì è la definitura del sabato oggi però Igor comincerà sicuramente a provare qualcosa per la formazione per i movimenti l'organizzazione del gioco e della squadra da opporre al Bologna che in questo inizio di campionato si è dimostrato un team molto organizzato con le idee ben chiare in campo e con un qualcosa in più che è arrivato sicuramente dal punto di vista motivazionale mentale in seguito alla sfortunata situazione di Mijailovic la squadra ha reagito nella maniera positiva dando un qualcosa in più in questo inizio di campionato proprio per dare una soddisfazione al tecnico che in questo periodo sta attraversando un momento difficile si sta curando come sappiamo per guarire dalla leucemia detto questo l'udinese ha a disposizione sicuramente Teravest che torna in gruppo naturalmente visto che manca da parecchio tempo dal campo dopo che aveva svolto un precampionato assolutamente all'altezza è difficile ipotizzare per lui un impiego imminente ma è comunque un giocatore guarito sul quale Tudor può iniziare a far affidamento magari non da subito magari non dal primo minuto ma è un giocatore a disposizione questo è sicuramente un anno importante perché l'infermeria è praticamente vuota c'era qualche dubbio sulle condizioni di Lasagna ma non ci sono assolutamente problemi Lasagna è uscito leggermente acciaccato affaticato dalla partita di Verona non ha nessun problema ed anche lui è disponibile per scendere in campo dal primo minuto se il tecnico deciderà di schierarlo dal primo minuto naturalmente contro il Bologna per quanto riguarda il basket avete già detto voi avete già trasmesso l'intervista a Davide Mikalic un general manager molto carico in vista della Supercoppa una Final Four che la Old Wild West Udine vorrà onorare sicuramente al 100% perché portare un trofeo a Udine sarebbe sicuramente molto importante per la storia dell'Apu e per l'entusiasmo che si genererebbe in vista del campionato che inizierà il 6 ottobre con la prima trasferta a Roseto dalla Dacia Arena è tutto Davide ti restituisco la linea grazie grazie al nostro Francesco Pezzella per tutte le ultime news sul mondo dei bianconeri ma non solo vi rimando all'appuntamento con pomeriggio calcio a partire dalle ore 15 per questa edizione è tutto l'informazione poi ritornerà in diretta alle 16 grazie buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti